amore ho un problema enorme ma va di quale sarebbe ho l'armadio vuoto e non ho niente da mettermi spero tu stia scherzando su tutto l'armadio ho un cassetto l'ultimo in fondo ma certo amore tu non hai le esigenze che ho io e comunque lo sai amore che io non scherzo su queste cose ma poi non vedi devo comprarmi assolutamente una borsetta nuova non ho più e si vede infatti capisci che mi serve qualcosa di nuovo maestro hanno dimostrato che circa il 100 per cento degli uomini non comprende la mente di una donna ignorando completamente le loro esigenze ma l'uomo ha escogitato un metodo pressoché infallibile per uscire da situazioni complicate come questa con una frase ad effetto allora sì amore hai ragione hai ragione che figata questo gioco studi dimostrano invece come il cervello dell'uomo sia estremamente semplice insignificante vuoto e inutile non predisposto alla vita di convivenza e ma dai con quest'analisi mi sembra che tu abbia esagerato un pochettino eh hit 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 ciao Grazie a tutti.